Parliamo adesso di arte e di cultura perché Caravaggio torna a Napoli e lo fa in maniera roboante con una mostra che parla della sua maestria ma soprattutto del suo grande amore per Napoli. Un'esposizione dove al museo di Capodimonte che sarà visitabile da questo venerdì fino a 14 luglio una mostra intitolata Caravaggio-Napoli. Oggi ne vogliamo parlare proprio con una ospite speciale, lei è la dottoressa Maria Cristina Terzaghi, una delle più importanti studiose del pittore che ha curato la mostra insieme al direttore di Capodimonte Silvain Belanger. Buongiorno dottoressa, ben trovata. Buongiorno a voi, buongiorno. Dunque è una mostra molto importante, una mostra tanto attesa che unisce Napoli con un grandissimo pittore quale Caravaggio che sicuramente non lascerà indifferenti né i napoletani ma sicuramente neppure i turisti. No, penso proprio di no perché questa mostra racconta 18 mesi che Caravaggio ha speso a Napoli in due periodi diversi. Lui arriva all'inizio, è documentato dal 6 ottobre 1606, poi parte per Malta perché voleva diventare Cavalieri di Malta, prendere la croce dell'ordine Gerosolimitano e pensando di rientrare abbastanza velocemente, in realtà ha una serie di traversie per cui riesce a ritornare a Napoli soltanto nel 1609, il 24 ottobre è documentato qui nel 1609 e per poi ripartire il 14 luglio 1610 pensando di rientrare a Roma finalmente dove aveva ricevuto la grazia, in realtà muore tragicamente a Porto Ercole, quindi diciamo sono i mesi più drammatici della sua vita che lui spende a Napoli ma sempre lavorando e creando capolavori. Dottoressa, c'è stata un po' di tribolazione intorno a questa mostra per il posizionamento di alcune opere, adesso però insomma tutte le polemiche sono state diradate e abbiamo una grossa mole di opere all'interno di una sola location, un evento veramente unico, inedito, per cui le chiederei gentilmente anche di commentare, perché abbiamo delle immagini relative a quelle che sarà la mostra, di commentare insieme un po' quali sono queste opere che noi avremo la possibilità finalmente di vedere tutte insieme. Guardi, allora, intanto la mostra certamente si svolge in qualche modo in due sedi, nel senso che la sede di Capodimonte raccoglie la maggior parte naturalmente delle opere, ma la pala del Piemonte della Misericordia, che è la prima pala che Caravaggio realizza a Napoli, resta nella location ovviamente originaria. Per caratteristiche tecniche ovviamente, che non si può estrapolare. Sì, c'era un problema di espostamenti e quindi alla fine abbiamo deciso di tenere la pala nel suo luogo originario, che però riserverà delle sorprese ai visitatori, perché in qualche modo con la luce siamo riusciti a trasformare anche questo ambiente, che ricordo a tutti non era esattamente l'ambiente per cui Caravaggio aveva pensato il dipinto, ma è frutto di una trasformazione del 1671. Quindi, diciamo, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che invece nella sede di Capodimonte abbiamo circa 25 opere, non solo di Caravaggio, ma anche dei suoi seguaci, dei suoi più stretti seguaci, perché quello che la mostra vorrebbe documentare... Così giudetti i caravaggeschi, no? Certo, i caravaggeschi, benissimo. Lui ha avuto un seguito importante a Roma, ma forse ha un seguito ancora più importante a Napoli. A Napoli immediatamente si mette in contatto con questi artisti. Uno è Battistello Caracciolo, che sarà l'altro grande protagonista di questa mostra, e l'altro è Luis Finson, di cui vedo che sono scorse su... Ecco, questo è Battistello, che vediamo ora in un momento meraviglioso, che è questa Salomè con la testa del Battista, che riprende l'invenzione caravaggesca che ho visto scorrere anche prima, che è quella della Salomè di Madrid. E invece abbiamo un bellissimo Luis Finson, che è il martirio di San Sebastiano, che è un artista fiammingo, che ha... ecco, questa è la Salomè di Madrid, di cui parlavo prima, è un dettaglio di questo quadro strepitoso. E invece abbiamo... e poi questa pala, dicevo, di Luis Finson, che arriva da una chiesa di Rouget, che è in una località sperduta della Francia, e non è mai stata esposta, e siamo molto contenti di averla. Riprende invece un altro dipinto di Caravaggio... Ce l'abbiamo per primi questa qua? Sì, è un'anteprima. Intanto la Salomè di Madrid, o anche la Salomè di Battistello, il Finson, e ancora la Fragilazione di Capodimonde, di Ruan, sono tutte in realtà opere che meritano anche di essere raccontate. Certo, ognuna ha una sua storia. Una sua storia è anche... Per esempio le Salomè, sono due che Caravaggio realizza a Napoli, entrano come delle bombe nel panorama artistico napoletano, perché improvvisamente tutti gli artisti cominciano a lavorare alla maniera di Caravaggio, anche quelli più tradizionali. Questa mostra racconta anche la storia di alcuni artisti, ancora che lavoravano in modo più attardato, tradizionale, che invece appena vedono Caravaggio, hanno una sorta di sussulto e cominciano anche loro a muoversi in questa direzione. A impazzire positivamente, a punto di vista artistico, perché a questo proposito io le farei una domanda, cioè l'influenza che ha avuto Caravaggio per Napoli, ma non soltanto in quei tempi, anche ai giorni nostri, cioè che cosa i napoletani ricordano di questo grande artista e come ha influenzato un po' il loro modo di pensare, il loro pensiero, perché naturalmente un artista come Caravaggio lascia una traccia indelebile su una città, in una città. Un artista, peraltro, scoperto, se non sbaglio, 1911, insomma, molto più tardi rispetto al suo tempo, per cui è qualcosa che proprio dà il senso del fatto che la sua impronta sia rimasta comunque molto incisiva anche nei contemporanei. Guardi, lei ha fatto molto bene a ricordare il 1911 perché è la data della tesi di laurea di Roberto Longhi, che è stato un po' l'incipit della riscoperta moderna di Caravaggio. E Roberto Longhi ha delle parole straordinarie su Caravaggio a Napoli quando dice che le sette opere di misericordia sono venute incontro a Caravaggio come se le è trovate come in un vicolo, nel crocicchio di un vicolo di Napoli e lui dice che l'incontro con questa città partenopea violenta e mimica, la chiama proprio così, ha in qualche modo creato la coralità nei quadri di Caravaggio perché un'opera come quella delle sette opere di misericordia con una pluralità di soggetti è assolutamente inedita nel catalogo di Caravaggio prima di Napoli. Io penso che sia vero anche il contrario, cioè c'è stata perché nella drammaticità del colore di Caravaggio, delle luci e delle ombre è rimasta impressa nella pittura napoletana in modo indelebile come non è successo a Roma. A Roma dopo il 1619, mi scusi, nessuno lavorava più così. Diventa un unicum in questo caso. Esatto, mentre a Napoli, dico da noi, anche se non sono napoletana, ormai mi sono imbedesimata, ancora Luca Giordano, Ribera, c'è un seguito profondo che non riesce più a eludere. Napoli è sempre fonte di ispirazione, secondo lei anche oggi o ancora oggi e poi dopo anche Caravaggio Napoli ha avuto e ha ancora il potere di ispirare gli artisti? Sicuramente, anche ai giorni nostri. Penso che è una città che ha una tale caratterizzazione anche umana, oltre che proprio del tessuto urbano che è impossibile che non influenzi gli artisti assolutamente. Come fare leva anche sui più giovani per quanto riguarda questa mostra, avvicinare soprattutto i giovani allo studio di Caravaggio, ma comunque allo studio dell'arte. Guardi, io insegno all'università e le garantisco che con Caravaggio non ho nessun problema, perché è un'artista che uno sente immediatamente contemporaneo. È vero. Guarda, Mario, io colgo la tua... Rivoluzionare anche un po', no? Forse per la carica umana, che non è così scontata in un pittore del Seicento. Io coglierei questo suggerimento, perché in realtà poi Caravaggio, che è definito anche l'inventore della fotografia fondamentalmente, ha ispirato e come i ragazzi? Perché fondamentalmente prima di lui non c'era un'apertura dedicata al reale, quindi a ciò che si può toccare. Assolutamente. Fino all'avvento di Caravaggio c'era un'apertura destinata all'ideale, quindi i Santi, Cristo, la storia, i racconti evangelici e quant'altro. Con lui si arriva a dipingere quella che è la mera realtà. Questo naturalmente cattura l'attenzione e l'interesse dei ragazzi. Mi posso permettere, la cosa più interessante è che proprio il soggetto religioso, che Caravaggio da un certo punto in poi persegue, cioè lui non farà mai più dei quadri profani da un certo momento in poi, è stato reso umano e contemporaneo da Caravaggio, cioè non era una storiella. La Madonna diventa una prostituta, eccetera. Ma anche senza la connotazione negativa, anche in senso pieno, anche positivamente, prendendo il modello dalla strada, perché lui prendeva questi personaggi e li metteva in posa, però è chiaramente il fatto di cominciare a lavorare in questo modo denota una sensibilità proprio personale da parte del pittore gigantesca. Come si possono avvicinare i nostri appassionati d'arte a questa mostra? Qual è il suggerimento ideale per approcciarsi? Guardi, secondo me la mostra è molto chiara per chiunque. Noi abbiamo tutti previsto degli apparati didattici, ci sono le audioguide, ci saranno le guide sul posto, però io ci ho tenuto molto insieme al direttore Silvain Belanger, che devo ringraziare, colgo l'occasione, tutto lo staff di Capodimonte, perché è stato un lavoro straordinario e anche del Piemonte della Misericordia, proprio abbiamo cercato di illustrare nel modo più piano e semplice possibile, solo guardando comprensibile a tutti io credo che se verranno a vedere capiranno immediatamente che cosa abbiamo voluto dire. Ma sicuramente ci sarà un sold out. Vogliamo però, come dicevi tu, fare un appello anche a casa. È bello anche cercare di invitare soprattutto le nuove generazioni a comprendere che la pittura di Caravaggio riguarda in qualche modo anche e soprattutto la nostra vita contemporanea, perché dà dei discatti. Sì, diventa attualissima. Esatto, quanto mai contemporanea è attuale, perché dà proprio dei momenti, degli screenshot di quello che viviamo tutti i giorni, naturalmente con la potenza del pennello e dei chiaroscuri. Certo, perché Caravaggio è un artista che coglie l'attimo, cioè vuole in un istante, in un fotogramma, realizzare, fotografare. Ecco, se ci fosse stato Instagram sarebbe stato bravissimo. Tutto quello che sta cadendo in quel momento, non solo quello che accade, ma proprio il sentimento. Il concetto di avvenimento è fondamentale nella pittura di Caravaggio. Caravaggio, Napoli, da questo venerdì fino a 14 luglio al Museo di Capodimonte. Una mostra imperdibile. Noi ringraziamo la dottoressa Maria Cristina Terzaghi per essere stata con noi. Grazie a voi. Una delle più importanti studiose del pittore. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie ancora. Pubblicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.